Ma però sui miei tienti Ha finito, la bella Non c'è più Si è aperta la cesta Non posso più mettere dislike a Bluefire Hehehe Hey tippa, non piangere Eh, senti ma cosa dovrebbe essere questo video, spiegami Posso camminare sull'acqua E tu non puoi La skin dei superpoteri Ho preso tipo achievement Take inventory Ragazzi siamo sul server più bello del mondo Io sono Derp e sono accompagnati Di Bluefire TV Quindi voi per avere i messaggi Della console dovete andare Sulla pedana Hey voglio dire vi Contatta un admin per maggiori informazioni Bisogna fare i provini Per diventare helper Ah lei è il signor Ragazzi benvenuti in questo nuovo video Di provini Siamo qui oggi per diventare delle star Siamo qua oggi Per fare il provino Sono qui per un provino Vorrei diventare Vostro helper No no Fate 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 C'era un cubo Hai tu il cubo Cioè la serie consiste in questo Stare tutto il tempo nello spawn Aspetta qui c'è un'altra Un'altra area Andiamo C'è il gioco della linea gialla Il gioco della linea gialla Griffa Griffa C'è della terra Ho preso della terra No Sì si può griffare Andiamo per i kit Sì Qui dovrebbe essere I kit qua eh Qua guarda Guarda C'è un armadio I kit senza dimostrazione C'è solo i kit È pieno È pieno di bottoni Che escono cose Che succede se è fatto qua Guarda Io ho una pala in mano E non so come usarla Guarda in alto Sto riempiendo di terra Tutti i riquadri Te lo puoi fare Aspetta Vieni a comprare questo Che costa 350 euro Sono un Hai presente i pesci vendoli Quelli Per le pesci si muove Sì Pesci rotanti Pesci rotanti Abbiamo parlato niente di questa serie Che cos'è questa serie Sostanzialmente in questa serie Questa serie È un È un sopravvivere al mondo Di server pvp Quelli Nel senso Quelli proprio Cioè questo è un server hardcore No? Cioè non è vero Però voi fate finta che In realtà Non è un server Io ed Earp Siamo a casa Ti dato a insultare Io sono a casa di Earp E stiamo Ti dato a insultare Sei un babb Sei un babbeo Vietato a fare Vietato a fare Torri uno per uno Per rovinare le mappe Oddio Questa è nostra Questa è nostra Darp Questa è nostra Sei pronto a creare Una distesa di Vietato lo spam di IP 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 Ok Vietato a settare In basi nemiche Vietati i multi account Per aumentare power Quanti account I minecraft Ti ho detto che avevo Vietato Vietato gridare lag LAAG Mi dispiace abbiamo Leggi Leggi Andiamo a qualche VARP Se esiste Sì dai Provali tutti VARP Disconnettiti Funziona di solito Funziona Sono vivo Mi sono disconnesso Semplice Quando rientro Mi uccide Siamo un genio Così posso far vedere in questa nuova serie di Minecraft Ocean perché c'è scritto Costa Concordia qui? vieni qua non voglio comprare una crociera con Costa Concordia infatti è fondata dove è finita la nave? cosa ci fa un buco qua? forse è stato Aerobrine Aerobrine sono dei maialini dobbiamo tipo accelerare questa parte e iniziare a fare la voce accelerata perché dobbiamo iniziare a e arriveremo molto breve in questa breve la casa dove ce la facciamo? in montagna o prima cerchiamo di prendere il legno? la casa? no non la voglio la casa come non voglio una casa? non si creano le case come non si creano le case? le case si griffano non si creano derp? derp? ho finito le idee per la serie sostanzialmente io non so più cosa fare facciamoci intanto facciamoci cosa? ragazzi voi nei commenti nei commenti potete potete spammare potete descrivere il vostro canale però non potete non potete dirci cosa fare non potete fare spam di xd capito? no dp spam dp stasera serve al pieno siamo in 7 8 asso 2012 jess e benvenuti ragazzi rieccoci all'episodio 2 di ma che stai 210 6 sino 1 2 3 4 6 6 7 8 8 8 6 11 11 11 Grazie.